I uomini. I uomini che non sono affidabili. Tutti? Eh. Ma a te non credo proprio. No, l'apparezza inganna. Ah sì? Più o meno. Io non mi ho creduto. C'è un altro mangioretto. Poi alla fine. Vabbè, il suo carattere è normale che ce l'hanno. Cosa fai tu con quella luce? Togli quella fave di là! Ma vuoi finire sul Feb e diventare famosa? Sì, con la faccia che c'è stasera di questo coso, veramente, questa voce è fastidiosa. Non è il coso. Non è il coso. Non è il telefono. Non ho capito che era un telefono. Non è questo che fosse solo una. Cos'è quella cosa? Dai, gliela va portare io e la portare a casa. Cosa? Che tuettina. Dicca, sei sciala. Sai come si sballa? No?